La Regione convoca i sindacati per discutere dell'ospedale in fiera, ma la risposta che arriva è un netto rifiuto a sedersi al tavolo del confronto. Uno strappo in piena regola, quello di tutte le sigle sindacali dei medici, su una vicenda, quella del Covid Hospital, già carica di polemiche e finita anche sotto la lente della magistratura. Il rifiuto a partecipare alla riunione è motivata con la totale mancanza di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali da parte del Governo regionale per la definizione dei criteri identificativi e del fabbisogno di personale dell'ospedale in fiera. Realizzato in 45 giorni, costato 20 milioni di euro, inaugurato il 16 gennaio scorso ma non ancora attivato perché appunto manca il personale. La Regione non avrebbe mai coinvolto i diretti interessati, medici, infermieri e operatori sociosanitari nella redazione del piano di fabbisogno. Un comportamento definito arrogante dai sindacati dei medici non più tollerabile. L'avvio e l'organizzazione del Covid Hospital in pratica è stata decisa solo dalla Regione e dal Dipartimento Salute, creando quel corto circuito di una struttura pronta, almeno sulla carta, ma inutilizzabile. I sindacati chiedono di sapere con estrema urgenza come si intenda procedere all'avvio e i criteri di scelta del personale coinvolto. Lamentano inoltre la mancata trasmissione dei dati completi su sicurezza del personale e degli utenti, dotazioni organiche effettive, residuo di dotazione organica rimanente lì dove quota parte della stessa viene trasferita in fiera, modalità di acquisizione degli organici che risultino carenti in relazione alla normativa sui livelli essenziali organizzativi. Infine ricordano i sindacati che l'attivazione e organizzazione di un ospedale spetta all'azienda Regione, ma sulle scelte che riguardano il personale è obbligatoria la contrattazione in sede decentrata e ad oggi questo non è assolutamente avvenuto.